ciao a tutti e bentornati sul canale eccomi con la seconda parte dello speciale 1000 iscritti e come vi avevo anticipato avrei fatto un piccolo annuncio sono molto felice di annunciarvi la mia collaborazione con il sito di itacon è un portale davvero importante che si occupa di collezionismo ed action figure è da un po di tempo che io mi occupo di scrivere gli articoli per questo sito che riguardano il mondo di funko e dei pop sul sito potete riconoscere gli articoli scritti da me perché sono firmati come jigoku che sarebbe mio nickname e quindi questa collaborazione che ora è ufficiale comporta un po di interessanti novità tanto per cominciare da quando uscirà una nuova notizia di qualsiasi genere come sempre troverete la notizia postata sui miei social quindi facebook twitter e instagram dove come sempre riporto in maniera molto essenziale i contenuti della notizia dopodiché sulla mia pagina di facebook troverete anche il link all'articolo che io andrò a scrivere proprio sul sito di itacon in questa maniera potrete andare a vedere la notizia nei dettagli inoltre vi invito ad iscrivervi al canale youtube di itacon questo perché tra non molto tempo troverete dei contenuti esclusivi che io creerò per itacon e quindi sostanzialmente dei video fatti da me ma che troverete solo lì io sono davvero felicissima di questa collaborazione perché la grande famiglia di itacon è composta da persone veramente meravigliose io mi sto trovando benissimo e sono contenta di poter portare il mio piccolo contributo per quanto riguarda il mondo funko io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo presto qui sul canale ciao